Ciao ragazzi, oggi vi voglio farvi una cosa brutta di Minecraft che è successo Che quando voi uscite, come io volevo, e ho fatto scaricare vi, succede questo Mi trema tutto e per cui mi devo uscire E se succede questo bug, è una cosa fastidiosa Il mio video si sta ancora caricando Che adesso è, si, facendo questo video è già stato scaricato Quindi, no, la cosa è una notizia brutta di Minecraft Eh, cione Asi scusate mi, se mi sentite, niciò non è